Vlog per esame è abbastanza pesante, laurea, mettiamola così. Io mi sto dilettando in questo periodo a fare dei video un pochettino più carini, come avete visto nell'ultimo video che ho fatto, vlog per esame, ne sto facendo altri per quanto riguarda la materia di storia dell'arte. Vabbè, la nuova materia del biennio, ok? Biennio, specialistica, chiamate come volete, i due anni dopo la triennale. Io mi sto laureando, mi sto preparando la tesi per dicembre, e quindi sono iscritto con riserva per la specialistica. Vorrei fare, appunto, altri video, già in realtà ce n'è uno in corso, lo sto editando, ci vuole un po' di tempo perché volevo farlo stile del vlog per esame di fotografia, però ci vuole troppo tempo, dato che, lasciando stare il fatto che devo fare la tesi, ok? Che mi ci sto dedicando anche meno di quanto dovrei, perché, appunto, c'è questa nuova materia, storia dell'arte, dove non facciamo storia dell'arte teorica, ma facciamo tutto pratico, nel senso che la professoressa ci dà un tema da seguire, e poi noi dobbiamo fare dei video per YouTube, quindi la mia specialità, e quindi ero super, ero e sono super contentissimo. Dobbiamo fare dei video di YouTube per quanto riguarda questi musei. Il primo esercizio è stato per quanto riguarda il sito web di un museo, il secondo social di un museo, del suo progetto. Abbiamo cambiato museo, però dobbiamo fare sia sito web che canali social, tutto in un video. Siamo divisi in tanti gruppi da 5 persone, circa alcuni 4, alcuni 6, dipende. Io sono un gruppo da 5 persone, sono ovviamente con Elde. Noi ci occupiamo della parte di montaggio, gli altri ricerca, registrazione, stilazione del testo, stilatura. Negli ultimi video ci sono stati dei problemi. Il primo, diciamo che abbiamo fatto tutto alla fine, l'ultimo giorno. Dobbiamo consegnarlo lunedì. Noi l'abbiamo fatto domenica perché tutto in vitale è stato, ma non per colpa mia o per colpa degli altri nel mio gruppo, ma per l'organizzazione generale. Poi, secondo progetto. Il video era molto, a me piace, penso che abbia superato di molto il primo progetto che abbiamo fatto. Il problema era l'audio. L'audio faceva abbastanza... No, faceva molta pena. Vi faccio sentire uno per le persone, non lo so. Ovviamente aspetta l'utente capire quale... Diciamo che non si capisce nulla. Comunque io metto, non so se avete visto appunto il blog per esami di fotografia, metto tanti swoosh, tanti effetti sonori della musica per dare emozioni. E quindi la voce... Anche la voce da sola faceva la pena. Ok, abbiamo cercato di migliorarla. Non era, diciamo, il mio compito registrare e modificare la... Quindi qua la colpa sfortunatamente non è mia. Comunque, peccato perché quello era un bel video. A noi professori hanno detto che... Cioè, andava bene, però l'audio non era buono. Quindi in realtà non abbiamo preso né una lode tipo bravi, oppure né una critica tipo... Dovete migliorare questo, questo, questo. Cioè, hanno detto che l'audio non andava bene, dovevamo rifarlo. Era abbastanza uno stato di vuoto, ok? Per quanto riguarda il terzo progetto, diciamo che mi sono dedicato un po' anche al testo. Inizialmente io, e poi seguito anche Elde. Ma questo non è il nostro compito. Nel senso che l'aveva fatto una nostra collega nel gruppo. Il fatto è che, dato l'ultima esperienza con l'altro video, che sono stati premiati altre persone, e a me è dato fastidio, perché a me non hanno dato né critica né lode, e su tutto stallo. Però non voglio che si ripeta questa cosa. Comunque, gli altri video possono essere bellissimi, ma io voglio i complimenti pure. Quindi, quello che aveva scritto, lo script del video che dovevamo fare, era tipo... Salve a tutti ragazzi, oggi siamo in un nuovissimo video. Oggi è un inizio lento, che non arriva al punto. Una cosa che, secondo me, per come guardi i video, è una persona disinteressata dal tutto. E appunto, questa cosa ho voluto modificarla, sia per quello, per quanto riguarda anche, creare emozioni, conflitto, curiosità, cose del genere. E quindi abbiamo modificato, ci abbiamo perso tante ore, però, va bene. Oggi spero che lo registrino, perché comunque dobbiamo editarlo noi. Niente, più che altro per questo. Ora vi faccio vedere cosa sto realmente facendo, che mi sta facendo perdere tanto tempo, e che ieri mi ha fatto stremare incredibilmente. Allora, questa è una tavoletta grafica. Io sto scomponendo questa immagine, cioè questa qua, in realtà ancora no, stavo per cominciare. Ma già questa, proprio questo è un casino. Incredibile. Vi faccio vedere una cosa, per esempio. Questa è l'ultima che ho fatto. Che vuol dire scomporre? Non mi ricordo se l'avevo già fatto vedere nell'altro video dell'EIT che avevo fatto per effetti speciali, però, comunque, avete visto le immagini di prima? Le faccio rivedere questa qua. Cosa ho fatto? La mano, i capelli, la bocca, ma la bocca cosa vuol dire? La bocca vuol dire che c'è la bocca su, la bocca giù, i denti, e dentro bocca. I denti non c'erano, però in questa scena dovevo fare il labiale, e dovevo farlo per forza, la bocca bene. Poi, goccia di sudore, volto, collo, e busto in realtà, capelli dietro, e lo sfondo. Con quest'altra immagine ci vorrà tanto da lavorare. Tanto lavoro, Rez. Quindi, Rez, grazie per la visione. Eh, basta così, cioè, potrei invitarvi a iscrivervi ai miei canali di lavoro, ma non mi va, ragazzi. Scusate, pensavo venisse di meno questo video. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.